Eccoci e bentornati sul mio canale! Oggi torniamo a parlare delle nuove mimetiche introdotte su Call of Duty Advanced Warfare Dove aver visto la mimetica Ass e oggi andiamo a vedere la mimetica Raggi X Il pacchetto personalizzazione Raggi X Una mimetica molto particolare innanzitutto perché è animata e traslucida Infatti è possibile quasi vedere la mappa attraverso l'arma Questo pacchetto personalizzazione Raggi X come per la mimetica Ass Introduce tre mirini a tema Raggi X che sono radiografia, cristallo e geosfera Che vi farò vedere in un video dedicato Ovviamente un biglietto da visita e un elemento per gli emblemi Esteticamente questa spacca tantissimo Soprattutto su Terras che è di notte, ambientata di notte la mappa Questa diventa quasi lucente e diventa di una bellezza veramente incredibile Secondo me una delle più belle di queste nuove 4 mimetiche che sono state introdotte Ovviamente qui sotto nei commenti fatemi sapere che cosa ne pensate di questa mimetica Raggi X Se il video vi è piaciuto iscrivetevi sul mio canale e condividete il mio video Ci vediamo con tanti nuovi video sempre qui, sempre sul mio canale